Dietro quei soggetti bancari che più che proporre impongono all'Italia le privatizzazioni che poi verranno realizzate in una decina d'anni comportando la vera e propria svendita e non può essere negata in capo a acquirenti che additano direttamente sempre le stesse identiche componenti oligarchiche bancarie anglosassoni e angloamericane e che avevo interpretato come un'attività che era rimasta nell'ombra dei fari dei fari invece che per l'obbedione pubblica erano rappresentati dalle stragi e dalle indagini di Tangentopoli e che in qualche modo servivano a mettere una parola fine, una parola conclusiva anche per la mafia che si sarebbe autodistrutta nel porre in essere quelle stragi perché era ovvio che si sarebbe ritorta nei suoi confronti. Veniva però distrutta non solo tutta la classe politica che aveva costituito il trade union tra l'Italia e gli Stati Uniti che non era mai stata una realizzazione di democrazia perché Stay Behind e Gladio avevano alterato la realità, avevano reso impossibile l'esercizio della democrazia in Italia perché non poteva il partito comunista salire al governo perché altrimenti sarebbe entrato in possesso delle nozioni che erano previste nei piani che erano contro il comunismo e l'allora Unione Sovietica e conseguentemente interpretai quel fatto come non solo, ripeto, una cancellazione delle prove che avrebbero indicato la regia esterna all'Italia che non è stata mai individuata però che è emersa sia nello stragismo eversivo sia nello stragismo mafioso con delle presenze occasionali di appartenenti a servizi o di appartenenti a ordini, voi della sinistra, voi della destra, voi con simboli identici adoperati come la svastica sia dalla sinistra che dalla destra che in qualche modo avrebbero pure dovuto lasciar pensare un po' anche a certe altre simbologie identiche che però hanno una chiave di lettura più antica e quindi massonica, ecco, che è presente nelle chiavi di lettura che peraltro avevo già indicato nel libro La Bestia Mi scusi dottore, lei dice che la mafia avrebbe subito, Cosa Nostra avrebbe subito delle ritorsioni in relazione allo stragismo e questo è avvenuto però a tutt'oggi la mafia non si è autodistrutta è ancora presente, anzi le notizie indicano che la pandemia in un certo qual modo sta rafforzando certi suoi traffici o certe sue posizioni Parliamo sempre di livelli di microcosmo, parliamo di bazzecole, quello che oggi abbiamo sott'occhio non è la pandemia in Italia, noi abbiamo il problema della sostituzione di equilibri internazionali in cui è naturale che si inseriscano a livello locale e territoriale nel nostro paese come in qualsiasi altro paese in particolare quando l'attenzione è concentrata su un problema e vengono elargiti fondi entrano in gioco le componenti criminali e quindi in particolare quelle che sono già radicate per approfittarne ma questo è un fenomeno puramente esecutivo come sempre è stato il ruolo in Italia della mafia, dell'andrangheta, della Sacra Corona Unita, della Camorra ma queste sono le caratterizzazioni dell'occhio miope, dell'occhio che vede semplicemente quello che vede a casa sua e non considera che per esempio la droga se non viene dall'Oriente, se non viene dalla Colombia o dal Messico dai paesi che ne sono fornitori non arriva dai nostri paesi quindi il sistema quello che è produttivo a livello superiore è quello internazionale, non è quello locale quindi noi non possiamo fermarci alle letture locali solo guardando chi è il sindaco o se è massone o se non è massone noi nelle problematiche di oggi dobbiamo individuare che cosa sta avvenendo e che cosa sta avvenendo lo comprendiamo semplicemente vedendo che nel nostro paese come anche in tutti gli altri paesi sono state accantonate possiamo dire provvisoriamente diciamo provvisoriamente perché non bisogna certo abbandonare le speranze per il futuro di ripristino di quelle garanzie di legalità costituzionali che sono presenti nella nostra Costituzione nelle altre Costituzioni ma in generale dalla pandemia e dal terrore che è stato utilizzato come strumento di controllo della popolazione unitamente all'isolamento e all'ingabbiamento del pensiero delle persone attraverso quelle nozioni che vengono espresse con delle parole nuove che sono state introdotte solo in questa linfodemia linfodemia cioè il giudicare falso chi falso chi in una democrazia sostiene una cosa diversa da quella che sostiene il partito di governo ma in una democrazia costituisce il principio cardine della libertà di pensiero e di espressione nel momento in cui si afferma che è quasi un reato o comunque commette un illecito chi dissente dalla tesi che viene sostenuta dal governo e tutto il Parlamento esclusa qualche marginale è ormai divenuto uniformemente contiguo alla linea di governo e noi ci rendiamo conto che nel nostro paese ma la stessa cosa di fatto si sta verificando in tutti gli altri paesi si stanno abbandonando quelle regole democratiche in cui dopo secoli e dopo millenni direi e gli ultimi secoli che hanno partorito le moderne costituzioni proprio dalla rivoluzione francese la difesa di quei diritti essenziali e primari dell'uomo sono stati disapplicati sono stati messi da parte di fronte a una nozione di salute pubblica di tutela della salute pubblica che è molto parziale in quanto la salute dell'uomo non è composta solo ed esclusivamente della componente animale che è fisica che è presente dentro di noi ma noi ci distinguiamo dagli altri animali perché abbiamo la psiche abbiamo l'anima abbiamo lo spirito e quindi qualsiasi misura richiede la tutela di entrambi non solo non solo non solo non c'è dottore ma addirittura sembra che tutta l'impostazione spinga a distruggere la parte che rende l'essere umano tale ecco